bella a tutti ragazzi sono blaze8888 conforme comunque questo sarà un nuovo canale che sostituirà quello vecchio per quelli che già erano iscritti al mio vecchio canale prima di tutto avevo detto che cambierò il nome e c'era sempre un numero seconda cosa se mi vedete così rosso è la stanza che fa contro luce comunque questa sarà la presentazione del nuovo canale che sarà più operativo perché questo è il nuovo telefono per questo potrò fare video più di qualità comunque questa sarà una breve presentazione di quello che farò come nel mio vecchio canale avevo detto che farò giochi horror giochi no sense e giochi proprio che mi consigliate voi se potrò fare non fare questi video vi farò se avrò giochi se no vi dirò che non ho i giochi e ne farò una scelta mia vi dico non posso fare video ogni giorno perché perché sono ancora un ragazzo per questo vado ancora così sembro un film dell'orrore cosa è meglio allora sono ancora un ragazzo e devo andare alle medie a volte quando andrò per esempio o con i miei genitori oppure con la scuola in vari posti farò un vlog per tenervi informati ah i video li potrò fare solo quando avrò la possibilità di farli perché fra i compiti fra il corso di arte per quelli che lo fanno non potrò fare video per esempio nei giorni che dirò ora che saranno il lunedì pomeriggio verso sera più o meno poi il giovedì quando verrà un mio compagno a casa proprio a scelta a volte la domenica o il sabato però questi giorni poi non mi scrivete nei commenti eh sì non vuoi più video per questo iscrivetevi lo stesso io cercherò di dare il mio massimo per continuare con questo canale niente qua finisce il video se vi è piaciuto lasciate un bel like condividete, commentate e subito una cosa importantissima per aiutare il canale a crescere iscrivetevi, lasciate anche un like eh niente ciao gente